Buongiorno, buongiorno a tutti. Tra poco esce il video mio solidario, ma prima volevo fare questo audio con Maria Paola Violi. Maria Paola, allora, tu avevi qualcosa da dire riguardo il possibile sonno di Juric, qualora non andassero bene le cose domani con Monza, e del possibile ritorno di Daniele De Rossi, no? Io posso dire solamente che sono schifata, come l'ho anche scritto su un post della Roma, sulla pagina Instagram della Roma, sono schifata e nauseata di questa situazione. Io mi chiedo ancora come i Fritkin possano permettere di tenere queste persone che sono, io le definisco ormai le mele marce perché avvelenano l'ambiente, avvelenano lo spogliatoio, hanno un'influenza negativa anche sugli altri giocatori. devono capire che sono quei elementi che vanno allontanati, perché hanno appunto, creano un ambiente malsano. Allora, qui nessun allenatore sarebbe a loro gradito se non De Rossi, ma loro si possono andare a fare la loro squadra di club, se la comprano, e vanno a prendere De Rossi come allenatore. De Rossi non è un allenatore, è un aspirante allenatore, perché finora non ha dimostrato niente, assolutamente niente. Come ho letto stamattina in un post, deve fare tanta serie D, tanta serie C, e poi forse quando avrà portato dei risultati si potrà far ambire a qualche squadra un pochino più di livello. Ma prima deve essere un allenatore che porta un certo, che apre in tutto delle idee di calcio ben chiare e che ha fatto fruttare queste idee nelle squadre dove è andato ad allenare. Se poi gli amichetti suoi lo vogliono lì, alla Roma, perché secondo me De Rossi è anche uno degli artefici di questo malsano ambiente. Ed è da tutto da lì, da tanto tempo fa, che parte questo ambiente di non avere ambizioni, di non avere nessun tipo di ambizione, di fare le stagioni a tirare a campare. Io se fossi nei Fritkin prenderei questi elementi e li metterei alla porta, perché adesso hanno proprio stufato, ma stufato di brutto. Perché non è possibile che un allenatore come Juric, che palesemente stanno facendo, cioè praticamente lo stanno mandando via. Io veramente, cioè, se fossi in una certa persona che gli sono andati lì nel finestrino e gli hanno fatto capire bene che l'aria non era più, diciamo, anche lui non era più proprio un soggetto gradito a Roma, ma proprio a Roma. Io fossi in lui me ne andrei, perché non se ne può più. Maria Paola, il tuo concetto è chiaro, grazie. Non è chiaro, non è chiaro per niente. Non è chiaro perché stanno facendo andare via la voglia pure alla gente di vedere le partite. Io quando vedo quel soggetto sono nauseata. Lui e i suoi amichetti deve andarsene da Roma, se ne deve andare perché lui e i suoi amichetti stanno facendo uno schifo a Roma. Lui non è il proprietario della Roma. I Friedkin finalmente devono cominciare a tagliare con certa gente perché lui non è il proprietario della Roma e non ha nessun potere a Roma. Quindi se andasse a trovare una squadra di club, se andasse a creare il suo club e poi va a chiamare De Rossi e chi vuole. Ma se lui vuole stare a Roma deve starci come Cristo comanda, facendo il suo ruolo di giocatore e facendo le sue cose. Situazioni che ha fatto delle partite ridicole. Io non capisco ancora, ripeto, come si possano salvaguardare queste persone. Basta, non se ne vuole più. Cioè, stanno facendo uno schifo, stanno facendo scappare le persone perché comunque loro vogliono DDR. Ma che cavolo è sto DDR? Ultima cosa, veloce e secca. Guarderai Monza Roma? Mi viene la nausea. Grazie, questa rubrica la chiameremo L'Avelenata. L'Avelenata. MP L'Avelenata. Nuova rubrica su Instagram e YouTube.